La stazione marittima del Molo Beverello a Napoli è un'area di transito, sbarco e imbarco che secondo gli ultimi dati aggiornati offre un flusso di circa 4 milioni di persone ogni anno in partenza e in arrivo dalle isole del Golfo di Napoli. Uno scalo che è stato oggetto di una profonda riqualificazione ampia e moderna con una copertura esterna sul tetto che funziona anche da passeggiata. Accompagnato dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfridi e dai vertici dell'autorità di sistema portuale, il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini ha fatto tappa alla stazione marittima per verificare da vicino la riqualificazione in vista della prossima apertura ai viaggiatori. Un nuovo Molo con bar, con servizi igienici, col collegamento diretto con la metropolitana, con l'aria condizionata, con la copertura e quindi vuol dire ancora più turismo e quindi vuol dire ancora più lavoro per Napoli. Stiamo investendo al di là di questi 23 milioni di euro, miliardi di euro a Napoli in campagna su infrastrutture, porti, aeroporti, strade, l'alta velocità a Napoli Bari che vuol dire migliorare la vita ai napoletani che ci vivono e che ci lavorano e poi attrarre ancora più turisti che qua portano denaro e ricchezza. Quindi è una bella giornata, mi sono impegnato a tornarci non da ministro al lavoro ma magari da turista a giugno luglio a verificare quanto cambi la vita per chi arriva dalle isole. Che sia un'opera congeniale che si presenti bene vede d'accordo De Luca anche se si tratta di un'opera figlia della programmazione di altri governi, dice il governatore, che poi annuncia entrerà in funzione non prima di qualche mese. Questa non è l'inaugurazione come potete vedere, è una passeggiata bene augurante. Il cantiere è stato consegnato nel 2019 per l'importo di 23 milioni di euro, non credo che entrerà in funzione prima di qualche mese perché bisogna completare alcune opere.